Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, buonasera, ben ritrovati con la nostra informazione. La politica in apertura, i tre candidati alla carica di sindaco di Campobasso si sono confrontati ad ingresso libero la trasmissione condotta da Pasquale Di Bello, esponendo la loro idea di città. Si è trattato del primo confronto tra Maria Luisa Forte, Pino Ruta e Aldo De Beneditti. Sentiamo qualche dichiarazione nel servizio di Tonino Danese. Un confronto a tutto campo, il primo fra i tre candidati alla carica di sindaco per Campobasso nella trasmissione ingresso libero a Telemolise, Maria Luisa Forte, alfiere della coalizione progressista, Pino Ruta per il cantiere civico e Aldo De Benedittis, fresco designato a guidare il centrodestra nella competizione elettorale, hanno spiegato la Campobasso che vorrebbero. Per Maria Luisa Forte l'idea di città e inclusive di comunità, una città da amministrare con cura e con novità. Ci sono delle risorse finanziarie ingenti, appunto ottenute con vari bandi del PNRR e con questi fondi si può veramente cambiare il volto della città. Già sono state intraprese diversi lavori, diverse iniziative e questo farà sì che Campobasso possa riprendere appunto il suo ruolo di capoluogo. Per Pino Ruta parola d'ordine, discontinuità con il passato per dare voce alla società civile. Non rappresento i partiti, ha detto. Abbiamo incontrato la città sotto tutti i punti di vista perché ci siamo rivolti al mondo dell'associazionismo, volontariato, laico, cattolico, mondo professionale, mondo delle imprese, mondo del commercio e nel corso di questi incontri abbiamo anche un po' elaborato quello che è il nostro programma che costituirà la sintesi di quest'anno di attività. Abbiamo privilegiato il rapporto con i cittadini e non con le segreterie di partito. Da questo punto di vista siamo molto convinti del percorso intrapreso e siamo anche convinti che la città risponderà perché c'è un bisogno di cambiamento. Per Aldo De Benedittis Campobasso deve essere attrattiva e può esserlo. Ci sono fondi, ha detto in ultimo, le possibilità dell'accordo con il governo. Con il quale sono stati dati anche altri fondi al Comune di Campobasso, alla Regione Molise che potrà rigirare al Comune di Campobasso e con i quali si potranno appaltare opere nuove oppure destinarle al verde pubblico. Abbiamo tanti problemi in questa città. Abbiamo problemi adesso al cimitero. Si è creato un comitato perché ci sono molti problemi al cimitero. Dobbiamo risolvere anche il problema di ordine pubblico che non sono noti gli episodi di accoltellamenti tra extracomunitari di qualche giorno fa. Sanità, lavoro, infrastrutture, sociale, sport, economia sono solo alcuni dei temi sui quali la campagna elettorale si incentrerà e su cui Forte, Ruta e De Benedittis cercheranno di convincere i campobassani a scegliere uno di loro alla guida della città. Cura, comunità, stare insieme, coesione, inclusione. Questo è quello che noi vogliamo fare. Portare avanti quello che già in parte è stato fatto modificare quello che c'è da modificare, migliorare, innovare. Vorremmo cambiare questa città. Siamo discontinui, riteniamo che sia stata gestita male e riteniamo che in qualche modo i cittadini debbano riappropriarsi delle istituzioni. E quindi da questo punto di vista cercheremo di portare dentro il maggior numero di persone che possano rappresentare quartieri, associazioni, ordini professionali, categorie e in qualche modo tutti coloro che si sono sentiti trascurati. Daremo più spazio alle associazioni, dovremo badare il più alle contrade perché sono state abbandonate fino ad oggi e su questi temi andremo avanti. Chiaramente dovremo stilare un programma, un programma che io stilerò insieme ai candidati consiglieri, ai consiglieri regionali, il Presidente della Regione e ripeto, abbiamo questa figura istituzionale che spero di far valere. Alleanza Verdi e Sinistra e Movimenti Civici hanno chiesto al Movimento 5 Stelle e PD la convocazione urgente di un tavolo politico per indicare in modo unitario il candidato sindaco di Termoli. Il giorno della presentazione delle liste si avvicina e a Termoli al momento sono due candidati alla carica di sindaco in corsa. L'avvocato Gio Mireti corre da solo con le sue liste dopo essere stato lanciato dal campo largo progressista che sul suo nome non ha trovato poi unità. Nico Balice, l'alfiere del centrodestra, che in verità su di lui aveva già puntato ma aspettava di trovare compattezza a Campobasso. Intanto c'è da registrare la nota di Alleanza Verdi e Sinistra e Movimenti Civici inviata ai vertici nazionali, regionali e cittadini di PD e Movimento 5 Stelle. Chiedono la convocazione urgente ad Oras di un tavolo politico per indicare in modo unitario il candidato sindaco di Termoli. Richiesta avanzata in considerazione di una conferma ricevuta dagli iscriventi informalmente e da esponenti locali DEM e Pentastellati della volontà degli organismi nazionali dei due partiti di riconsiderare l'indicazione del candidato sindaco della città adriatica precedentemente avanzata e ancora, si legge sempre nella nota Alleanza Verdi e Sinistra e Movimenti Civici considerando la volontà manifestata di allargare il perimetro della coalizione alternativa al centrodestra anche ai partiti e alle forze civiche che rappresentiamo. Consapevoli dell'urgenza di offrire a Termoli e ai suoi cittadini una proposta solida e pronta a entrare immediatamente nel cuore della sfida elettorale concludono la lettera indirizzata al PD e Movimento 5 Stelle fin d'ora dichiariamo la nostra disponibilità a verificare l'opportunità di scegliere il candidato sindaco anche fra profili politici di vostra espressione. Insomma, Verdi e Sinistra e i Movimenti Civici chiedono che si arrivi a una scelta chiara, unitaria e in tempi brevissimi. La novità importante è che Forza Italia e noi moderati hanno costruito una lista insieme che codrerà per le elezioni al Parlamento europeo questo quanto dichiarato dal coordinatore regionale per il Molise di noi moderati il consigliere regionale Fabio Cofelice a margine del Consiglio Nazionale di noi moderati il partito guidato da Maurizio Lupi che si è tenuto a Roma Per noi moderati un risultato importante ha detto ancora Cofelice il nostro è un accordo con Forza Italia con un patto federativo per essere presente con un proprio simbolo, segno di identità del partito i sondaggi, ha concluso Cofelice danno già la lista sopra il 10% e sarà un trionfo dei valori del Partito Popolare europeo Cambiamo argomento non c'è ancora una condanna ma potrebbe arrivare ad agosto stiamo parlando dell'omicidio della molisana Sonia di Pinto avvenuto due anni fa in Lussemburgo io sarò lì per guardare in faccia gli assassini di mia figlia parla la mamma di Sonia che ha scritto una lettera per ricordarla Andrea Nasillo Non c'è ancora una condanna forse ad agosto io sarò lì per guardare in faccia quelle persone senza cuore che l'hanno uccisa e mamma Antonietta che parla due anni esatti dall'omicidio di Sonia di Pinto la donna di Petacciato che la notte di Pasqua del 2022 è stata uccisa in Lussemburgo durante una rapina tradita da un collega che ha permesso a due malviventi di entrare nel ristorante a chiusura mentre Sonia stava contando i soldi tra i giovani arrestati è stata colpita più volte il suo corpo trascinato in uno scantinato dove una collega all'alba l'ha trovata senza vita aveva 46 anni la famiglia continua a chiedere giustizia la fede e il ricordo di una ragazza speciale fanno andare avanti mamma Antonietta che lascia alla scrittura i suoi pensieri il suo messaggio ha scritto di nuovo una lettera cara figlia ci manchi enormemente non ascoltare la tua voce è come morire in ogni battito del cuore quei cuori che ti hanno dato la vita qualcun altro con violenza te l'ha tolta due anni di vuoto assoluto colmi di tristezza e dolore che non ci abbandona mai facendoci compagnia come non ci abbandona il nostro pensiero per te amore nostro sono le parole di una mamma addolorata che attende giustizia quanto è difficile venire a trovarti la fatica scrive ancora Antonietta Agnello prende le gambe e il cuore parlarti attraverso la fredda pietra è difficile ed è incomprensibile quello che ti è successo tesoro nostro sarai la figlia che non invecchierà mai poi il pensiero a quante altre cose avrebbero dovuto vivere insieme i progetti pensati per il futuro ma tu vivi e vivrai fortemente e per sempre nei cuori ha concluso mamma Antonietta di tutti noi è stata segnalata ai carabinieri una rissa scoppiata nella serata di ieri lungo la centralissima via Falca Venafro un gruppo di cittadini extracomunitari si sarebbe scagliato contro alcuni residenti e cittadini del posto che intorno alle 22 erano all'esterno delle loro abitazioni un episodio in cui sarebbero spuntati anche bastoni e pietre che è stato anche immortalato in un video al vaglio degli inquirenti ACC ha presentato la bozza di protocollo per la collocazione dei lavoratori di Stellantis di Termoli nella Gigafactory che sorgerà in città i sindacati ritengono queste proposte non sufficienti per la tutela occupazionale il ministero preparerà una nuova bozza sentiamo una bozza di protocollo di intesa per la collocazione dei lavoratori è stata presentata da ACC al tavolo con Stellantis regione governo e sindacati al ministero delle imprese e del Made in Italy il vertice atteso con ansia dalle parti sociali che però parlano di garanzie non sufficienti in merito al passaggio prioritario di tutti i lavoratori da Stellantis ad ACC la società che si occupa della Gigafactory i lavoratori di Stellantis Termoli costituiscono il bacino fondamentale e prioritario al quale ACC deve fare riferimento scrivono in una nota congiunta le organizzazioni sindacali che chiedono inoltre siano ripresi i punti del documento del ministero del 14 marzo scorso che recepiva chiare indicazioni e sì sì deve dare priorità ai dipendenti di Stellantis di Termoli in caso avesse bisogno di professionalità specifiche non riscontrabili tra i dipendenti di Termoli le reperirà all'esterno Stellantis però si impegna a non lasciare a piedi nessuno chiediamo inoltre scrivono le parti sociali che ci sia una gestione con appositi incontri con le organizzazioni sindacali per il bacino residuo di lavoratori a fronte di oggettive problematiche di riconvertibilità professionali e motivate ragioni di volontarietà di inserimento in essi sì nei prossimi giorni il ministero lavorerà su una nuova bozza un incontro importante perché il primo incontro in cui abbiamo un testo scritto ovviamente un testo che però al momento non ci soddisfa in quanto non c'è ancora nero su bianco il passaggio di tutti i lavoratori alle condizioni economiche e normative attuali il prossimo incontro sarà l'8 maggio le parti sociali chiedono che sia convocato al più presto anche il tavolo automotive specifico al ministero per il territorio di Termoli così da poter discutere della situazione occupazionale di Stellantis e dell'intero indotto anche dal Molise in centinaia la manifestazione nazionale organizzata da CGL Will per chiedere salute e sicurezza sul lavoro per difendere e rilanciare la sanità pubblica nel nostro paese per un fisco equo e rinnovo dei contratti di lavoro e la tutela dei salari per le due organizzazioni sindacali è fondamentale investire su strutture e personali pubblici recuperando le risorse dagli sprechi in piazza hanno urlato forte la necessità di potenziare il numero dei posti letto e riconsegnare alla sanità pubblica il compito di garantire l'universalità del diritto alla salute nuovo ospite internazionale di spessore a Campobasso per la rassegna poetica dedicata al tema tra guerra e pace liudmila di acenco una delle poetesse più apprezzate e tradotte dell'ucraina ha risposto alle domande sulla realtà della guerra che sta vivendo a kiev ma anche di poesia e del suo libro la fobia dei numeri prima antologia tradotta in italiano sentiamo vivere in guerra ti connette fortemente alla vita riscopri cosa vuol dire essere felice delle piccole cose di avere la luce o l'acqua in casa mentre scappi nei rifugi mentre ti nascondi negli scantinati perché intorno a te piovono bombe o suona l'allarme vedi dolore e paura eppure ti accorgi anche là che può esistere la bellezza liudmila di acenco una delle poetesse più apprezzate e tradotte dell'ucraina ospite ha poi etica per la rassegna tra guerra e pace discorre di guerra appunto quella tra russa e ucraina che va avanti da due anni e cerca di spiegare cosa cambia nella quotidianità delle persone che da un giorno all'altro si trovano con gli amici di una vita vestita da soldati ne parla con valentino campo che modera l'incontro e con i tanti ragazzi che sono venuti ad ascoltarla lei arrivata a campo basso con un viaggio tra mille difficoltà in auto verso la romania per arrivare in italia all'inizio della guerra non riuscivo più a scrivere spiega a Liudmila tutto sembrava inutile e stupido nell'attesa di morire da un momento all'altro consapevole che la poesia la cultura non può far nulla contro la guerra poi qualcosa è cambiato ho ricominciato a scrivere dopo che un mio amico è stato ucciso dai russi prima che morisse ci scrivevamo e gli chiedevo che cosa devo fare adesso e lui mi ha risposto vivi si te stessa salvati e ho pensato che cosa significa salva te stessa chi sono io e mi sono detta forse sono la mia anima ma la mia anima è la poesia e così ho ricominciato a scrivere il libro di poesie che Liudmila Diacenco presenta a Campobasso è la fobia dei numeri la prima tradotta in italiano curata da Paolo Galvagni e contiene un allezio che esprime bene il pensiero dell'autrice in questo momento la poesia dovrebbe iniziare il giorno in cui si nasce e non finire il giorno in cui si muore un gradimento totale da parte dei presenti in sala tanti i ragazzi poi Etica sta veramente in maniera pervasiva cominciando a far parte di quello che è il tessuto culturale di questa città e di questa regione nel suo complesso e in fondo era l'obiettivo che noi ci siamo prefissi fin dall'inizio cercare il più possibile di superare i confini regionali e dare uno sguardo sul mondo a chi vive in questa regione dalle 8 di lunedì e fino al termine dei lavori previsti per il 24 maggio con propria ordinanza il comune di Campobasso ha istituito il divieto di transito nell'area di intersezione tra via Ferro e via Molinaro nella zona industriale divieto che fanno sapere da Palazzo San Giorgio si rende necessario per consentire la realizzazione di una nuova rotatoria nell'ambito del progetto di adeguamento miglioramento e completamento della strada che collega Ponte San Pietro alla zona industriale ed ora andiamo a Poggio Sannita dove è stata inaugurata questa mattina la nuova rotatoria all'ingresso del paese e il monumento dei caduti dedicato alle vittime della guerra Barbara Fino Poggio Sannita Caccavone è questa la duplice scritta sulla nuova rotatoria inaugurata questa mattina alla presenza della cittadinanza riunita per l'occasione e delle autorità militari civili e religiose sarà impossibile dunque da oggi dimenticare le radici di questo comune che resta ancorato alla sua storia e alle sue origini nove secoli di storia non possono essere cancellati per volere di un sindaco la rotatoria ricorda i due nomi Caccavone e Poggio Sannita proprio per dire che c'è stato un passaggio di consegne tra l'uno e l'altro la rotatoria rappresenta inoltre un importante intervento migliorativo per la comunità di Poggio Sannita mettendo in sicurezza la viabilità e il decoro urbano taglio del nastro nel piazzale di Via Roma con la benedizione dell'opera per poi passare all'alza bandiera e alla deposizione di una corona di alloro presso il nuovo Monumento ai Caduti dedicato ai morti dell'Associazione Artiglieri d'Italia deceduti nelle due guerre mondiali mancava un monumento che ricordasse e raccogliesse la memoria di tutti i caduti in tutti i conflitti abbiamo sviluppato questa idea partendo anche dalla constatazione che c'è un artigliere un cittadino di Poggio Sannita che è caduto nella prima guerra mondiale era un ufficiale dell'artiglieria ed è stato decorato di una medaglia d'argento al valore militare e abbiamo anche dedicato la sezione di Poggio Sannita costituita da poco a questo caduto una giornata dedicata al ricordo culturale e storico per Poggio Sannita c'è sempre la partecipazione emotiva soprattutto in un momento come questo dove ai noi le guerre sono alle porte dell'Europa e ci sono focolai assolutamente pericolosi in tante parti del mondo quindi ricordare coloro i quali hanno dato la vita per la nostra patria da una parte un sentimento di grande rispetto ma dall'altra anche le preoccupazioni e poi c'è quest'altra rotonda che fa vedere quando il Molise sia ancora vivo i servizi che vengono dati soprattutto in questa comunità dell'Alto Molise siano assolutamente necessari L'Europarlamentare della Lega Aldo Patricello in un messaggio al segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo ha espresso vicinanza e solidarietà per l'iniziativa avviata attraverso il tour tra le carceri italiane e lo sciopero della fame che ieri a Pescara gli ha causato un malore le problematiche che riguardano il sistema penitenziario italiano ha sottolineato Patricello da tempo sono attenzionate dal Parlamento Europeo sia per le condizioni di detenzione che per quelle di lavoro del personale l'azione di protesta di Aldo Di Giacomo ha concluso ha avuto il merito di riaccendere l'attenzione politica ed istituzionale quando le scuole non riescono ad andare a Telemolise allora è Telemolise arrecarsi nelle scuole quello che è successo nell'aula magna dell'Istituto Principe di Piemonte a Termoli dove il nostro direttore Emanuela Petescia ha potuto svolgere una lezione di giornalismo televisivo grazie anche alla elevata tecnologia offerta dalla struttura Dalila Catenaro quando è che una persona può essere considerata o diventa una bella persona questo è l'interrogativo di base da cui è partita la lunga lezione di giornalismo televisivo che si è svolta a Termoli con le quinte classi della scuola primaria dell'Istituto Principe di Piemonte il punto di partenza è infatti il concetto del bello che va in onda in televisione bella presenza bella voce gestualità padronanza della lingua italiana sintesi dei testi scritti scelta delle immagini montaggio un lungo percorso che tuttavia svela lentamente e soprattutto concretamente un esempio dopo l'altro una prova dopo l'altra cosa deve intendersi con il termine bello tanto nel mondo televisivo quanto nella vita di tutti i giorni la cultura prima di tutto poi la gentilezza l'altruismo la solidarietà e la calma si diventa leader nei rapporti con gli altri e nelle performance televisive ha detto il direttore di Telemolise Emanuela Petescia quando si è colti generosi capaci di gestire le emozioni e capaci di controllare la collera tutto il resto essere alti o bassi magri o in carne con gli occhi azzurri o castani e i capelli biondi non ha alcun valore se mancano quelle qualità umane e così i ragazzi entusiasti e motivati si sono cimentati alla fine nell'arte dell'intervista e tutto questo è stato possibile grazie a un laboratorio tecnologico quello della scuola principe di Piemonte così avanzato e di qualità da consentire il trasferimento armi e bagagli della televisione nell'istituto il giornalista televisivo lavora solo con la scrittura? no lavora anche con la voce e con le immagini ci troviamo nella scuola principe di Piemonte a Termoli dove si è svolta una lezione di giornalismo televisivo vediamo come è andata allora è stata interessante e proverò a mettere in pratica alcuni suggerimenti ti piacerebbe un giorno diventare giornalista televisivo? sì mi piacerebbe molto è un bellissimo lavoro buon vero di giocare amici di Telemolise ben trovati in questa edizione del telegiornale adesso vi do il servizio ti è piaciuta questa lezione di giornalismo? sì mi è piaciuta molto secondo me è stata molto interessante e anche molto costruttiva il giornalista televisivo scrive soltanto? no deve anche saper usare la voce e le immagini oggi c'è stata una lezione di giornalismo televisivo ti è piaciuta? sì mi è piaciuta molto e ho scoperto che i giornalisti devono anche saper usare la voce e le immagini ci troviamo nella scuola principe di Miemonte abbiamo fatto una lezione di giornalismo ti è piaciuta? sì mi è piaciuta molto spero di rifarla ti piacerebbe un giorno diventare un giornalista televisivo? sì mi sembra un lavoro interessante quindi farai la giornalista? forse sì bene è stata molto interessante io sono un insegnante di italiano quindi con i bambini abbiamo affrontato il testo giornalistico e quindi abbiamo parlato dell'articolo di cronaca e tutto ciò che è collegato al concetto di giornalismo quindi loro erano già abbastanza formati inoltre io mi occupo anche di tecnologia quindi tecnologia abbastanza avanzata i bambini hanno comunque risposto alle domande della direttrice in maniera molto molto spiccata preside Rosanna Scrascia si parla di innovazione nel vostro istituto una lezione di giornalismo televisivo è segno dei tempi che vanno avanti l'innovazione nella didattica adesso praticamente è stesa a tutte le classi in particolare le classi quinte che hanno partecipato a questo intervento di giornalismo oggi sono già molto preparate sotto questo punto di vista abbiamo la possibilità con molti fondi ministeriali che ci sono arrivati anche di fare acquisti tecnologici anche quest'aula che vedete è stata arricchita da varie strumentazioni digitali strumentazione che ha davvero permesso una lezione frontale oggi con i ragazzi di quinte elementare certo perché come insomma avete potuto vedere tutte le classi sono dotate di questi monitor interattivi tantissimo materiale che era impensabile in una scuola primaria fino a pochi anni fa l'approccio interdisciplinare nella cura dei tumori della pelle è stato il tema di cui si è parlato all'ordine dei medici di Zernia durante un convegno con il dottore Fulvio Rocco Martone un metodo diverso per far fronte al carcinoma cutaneo in attesa che venga approvato il vaccino contro il melanoma attualmente in fase di sperimentazione Davide Gambardella Un approccio interdisciplinare sempre più necessario per la cura del carcinoma cutaneo dermatologi chirurghi ma anche medici di base devono interagire per affrontare lo stato dell'arte le criticità e i percorsi virtuosi nella cura dei tumori della pelle è stato questo il tema al centro dell'incontro che si è tenuto all'ordine dei medici di Zernia durante il convegno scientifico dedicato al ruolo cruciale del team multidisciplinare nella gestione del paziente oncologico in dermatologia a illustrare i dettagli di questo approccio è stato il dottor Fulvio Rocco Martone dermatologo e responsabile scientifico del convegno fino a poco tempo fa la gestione di questi pazienti era affidata o al chirurgo o al dermatologo o all'oncologo oggi si è visto che queste tre figure devono lavorare insieme fondamentalmente nella maggior parte dei casi il paziente dermatologico con una patologia oncologica ha un primo approccio che è proprio con il dermatologo spesso il dermatologo con le nuove scuole dermatologiche che ovviamente ci hanno preparato anche alla chirurgia fa anche l'escissione chirurgica della lesione ma poi in base all'escissione chirurgica molte volte è necessario anche l'apporto dell'oncologo quindi è necessario un team interdisciplinare un team di medici specializzati preparati che ruotano intorno alla figura del paziente che è oggetto in questo caso soggetto fondamentale del nostro interesse la prevenzione resta il miglior alleato contro il melanoma in attesa che il vaccino mRNA venga approvato riguardarsi durante l'esposizione al sole la mappatura dei nei e le altre precauzioni rientrano tra le raccomandazioni degli esperti il melanoma se preso nella fase iniziale cioè un TIS e traduco un tumore in situ è perfettamente guaribile con una semplice escissione chirurgica che si può fare ambulatorialmente siamo tutti in attesa di questo nuovo vaccino siamo tutti in attesa ovviamente che i risultati brillanti ci saranno ripeto il professor Ascerto è un'eminenza in questo campo il Pascale è un istituto uno dei migliori a livello europeo quindi siamo tutti fiduciosi siamo ancora nelle fasi iniziali e speriamo che quanto prima sia disponibile ma nel frattempo il paziente quello che può fare è prevenire è l'unica cosa domani alle 15.30 al laboratorio di giardinaggio ci vuole un fiore terza edizione dedicato ai beneficiari SAI intergramondo e caribù nel cortile davanti agli uffici dell'unione coltivatori italiani in via D'Amato a Campobasso l'ente gestore la cooperativa sociale per azioni ASL assistenza e lavoro ci vuole un fiore tre mette insieme realtà disparate voglia di crescita e di riscatto creatività emozioni e talento sono racchiuse in un'unica parola inclusione il treno storico della Transiberiana d'Italia che attraversa le vette dell'Appennino italiano offrendo uno spettacolo mozzafiato con il suo percorso a quota 1268 metri torna dal 23 giugno con la prima partenza della stagione estiva seguita da appuntamenti nei mesi successivi prima della riapertura dell'intera linea che collega Sulmona a Carpinone e Isernia prevista per il prossimo anno sentiamo Tonino Danese Un treno storico con un fascino particolare sembra di viaggiare in vagoni di cento anni fa atmosfere da romanzo di Agatha Christie è noto come la Transiberiana d'Italia e attraversa le vette dell'Appennino italiano offrendo a chi si siede vicino ai finestrini uno spettacolo mozzafiato un percorso in quota che taglia il territorio che ospita il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise è quello della Maiella con 128 chilometri di lunghezza fatti di ponti suggestivi viadotti gallerie su valli attraverso montagne da fiaba dalle quali ammiccano paesi deliziosi e ricchi di storia 21 stazioni che raccontano il territorio attraversato Molise e Abruzzo un piccolo capolavoro di ingegneria il treno è nato agli sgoccioli del 1800 precisamente nel 1897 la Transiberiana d'Italia torna a muoversi sulle rotaie dal 23 giugno con la prima partenza della stagione estiva seguita da appuntamenti nei mesi successivi a luglio sono previste due domeniche il 21 e il 28 oltre al 4 e a tutti fine settimana di agosto a settembre altri 4 viaggi sono in programma prima della riapertura dell'intera linea che collega sul Mona Carpinone e Isernia prevista per il prossimo anno un passo fondamentale per valorizzare ulteriormente il patrimonio storico e naturalistico dell'Appennino teatro musica laboratori e dialoghi si è svolta anche al liceo classico Mario Pagano di Campobasso la notte nazionale dei licei tema di quest'anno la comunicazione nell'epoca dei social e dell'intelligenza artificiale sentiamo si sono preparati per tutto l'anno nell'organizzazione della decima edizione della notte nazionale dei licei classici i ragazzi del Mario Pagano di Campobasso un appuntamento ormai consolidato che suscita molto entusiasmo e si conclude da anni con una grande partecipazione degli studenti che mettono tutte le loro energie creative per la riuscita dell'evento abbiamo preparato chiaramente tante attività prima fra tutte possiamo ricordare l'intervento di William Mussini qui stasera da noi poi abbiamo l'esibizione dei nostri ragazzi della band musicale abbiamo il coro lirico curato da professoressa Amascia abbiamo la rappresentazione teatrale del Dioscolos di Merandro abbiamo la lettura di Medea rappresentazione di Palomar di Italo Calvino e tanto altro Cos'è la comunicazione oggi che Canali usa che impatto ha soprattutto sui ragazzi in questo tempo di intelligenza artificiale social messaggi istantanei quanto impattano le famose spunte blu la lettura da parte degli altri dei nostri messaggi la condivisione dei nostri post quanto ci condizionano nella vita quotidiana come influiscono sulla nostra mente sul nostro essere io con gli altri tutti interrogativi che gli studenti del liceo classico Mario Pagano si sono posti all'interno della decima edizione della notte dei licei attraverso varie attività il tema è molto importante perché in un mondo dove si parla molto della comunicazione in un mondo che è sempre più interconnesso poi alla fine si scopre che grazie all'intelligenza artificiale alle nuove tecnologie in realtà poi questa comunicazione va sempre più scemando invece noi vogliamo concentrare l'attenzione su quella che è la comunicazione vis-à-vis concreta che è molto importante per la crescita individuale anche per lo sviluppo professionale L'evento il Giro dei Fuochi che era in programma per oggi a Mirabello Sannetico è stato rinviato a causa del maltempo al 27 aprile sabato durante la serata che prenderà il via alle 20.30 con l'accensione dei Fuochi in compagnia della Sassin Funky Street Band sarà possibile degustare prodotti e vini tipici locali giovedì 25 aprile si terrà sul lago di Occhito la seconda edizione della Magna Longa una passeggiata non competitiva adatta a tutti la Proloco di Cerenza Valfurtore promuove l'evento lungo una delle dighe più belle d'Italia al confine tra Puglia e Molise le campagne diventano scenario di un percorso enogastronomico composto da quattro tappe all'arrivo è previsto un pranzo a base di prodotti tipici della zona i posti sono limitati e le prenotazioni dovranno avvenire entro domani ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci preferito a tutti voi una cordiale buonanotte grazie a tutti grazie a tutti